Se cadi, rialzati più forte, impara dai tuoi errori. Questa è la mia vita, sono le mie scelte, le mie. Affronta la paura e la sconfitta, fanno parte della vita. Ce la faccio, ho detto che ce la faccio. Diventerai un campione, ma soprattutto diventerai un uomo. Abbiamo combattuto insieme, io senza di te non ce la faccio. Tratto da una storia vera, la stoccata vincente. Domenica 24 settembre alle 21.25, Rai 1.